Ciao amici e bentornati a questo nuovo episodio di Giulia Sa con Giulia Savulescu Volete rivivere ogni giorno il magico mondo di New School? Bene, allora questo è sicuramente il libro che fa per voi Lo sketchbook di New School Qui dentro trovate spazi per scrivere dediche ai vostri migliori amici oppure pagine in cui raccontare le esperienze più strane che vi capitano a scuola Vedete? Qua potete scrivere quali sono le vostre materie preferite e perché Chiaramente c'è Alice che vi ricorda che ogni materia può essere interessante Mitica Alice C'è anche lo spazio per i voti Ma chiaramente quelli li potete anche inventare Qui potete raccontare le vostre sfide quotidiane oppure fatti divertenti tratti dei vostri intervalli Io ad esempio ho raccontato quella volta in cui sono inciampata durante l'intervallo davanti a tutti Che ridere Attaccateci foto, disegnateci quello che volete e rendetelo il vostro secondo diario I personaggi di New School vi accompagneranno durante verifiche, interrogazioni e lezioni Meglio di così ci si vede alla prossima Ciao Ciao